L'Associazione Europea di giornalisti Arena for Journalism ha pubblicato qualche settimana fa un nuovissimo studio intitolato Under the Surface, sotto la superficie, che conferma il gravissimo e drammatico problema di esaurimento delle falde acquifere e del loro inquinamento chimico. Questo in gran parte d'Europa, come potete vedere, Italia compresa sia Nord che Centro che Sud. Da tempo il Movimento 5 Stelle denuncia il problema e lavora per mitigarlo e recentemente abbiamo stretto un'alleanza specifica con il Partito Democratico sul tema dei bacini idrici. Il 9 aprile scorso, come coordinatore del Comitato Transizione Ecologica e assieme al PD e con l'aiuto di Coldiretti e di Ambi, abbiamo proposto una manutenzione del nostro grande patrimonio di bacini idrici e l'utilizzo contemporaneo anche degli stessi per produrre energia più pulita e più economica tramite il fotovoltaico galleggiante. Ora rinnoviamo l'appello a tutta la società civile e a tutti i partiti, puliamo i nostri bacini idrici, utilizziamoli per produrre energia prima che la siccità diventi ancora più ingestibile.